Oggi ti mostro come ho riutilizzato una bottiglia di vetro e una bottiglia di plastica per trasformarle in due oggetti utili per far calmare i bambini, ma anche gli adulti, più agitati. Se ti piace un tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!